La 14esima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti, punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. La categoria è diritto amministrativo, il premio è boutique di eccellenza dell'anno, leadership diritto amministrativo. Il premio va a studio legale associato, corsi nuovi, manmana. Un dite leggiamo la motivazione per il grado di specializzazione raggiunto in materia di diritto amministrativo, con particolare riferimento, contratti pubblici, anticorruzione, responsabilità delle persone giuridiche, privacy, digitalizzazione delle PA. Per l'impiego messo in campo nella consulenza legale, nei settori degli appalti pubblici, GDPR e formazione. C'è qui tutta la tavolata tutto il gruppo, avete fatto benissimo. Complimenti allo studio legale associato, corsi nuovi e manmana. Boutique di eccellenza dell'anno, leadership diritto amministrativo, pronti per la foto di gruppo con il premio naturalmente a favore di luci. Bravissimi! Diamo il benvenuto agli avvocati Flavio Corsinovi e Mauro Manmana, due professionisti che hanno unito le loro competenze e fondato lo studio legale associato Corsinovi-Mammana. Il vostro studio legale ha sede a Firenze ma opera in tutta Italia ed è specializzato in diritto amministrativo, contratti pubblici, anticorruzione e digitalizzazione della pubblica amministrazione. Avvocato Manmana, possiamo dire che la vostra attività legale si snoda a 360 gradi in quanto siete avvocati, consulenti e formatori. Come riuscite a combinare questi ruoli differenti? La scelta di muoversi non solo sulla scorta della tradizionale attività legale e quindi del contenzioso ma di implementare le attività anche di consulenza e di formazione è stata una scelta necessitata dall'andamento del mercato e anche dalle richieste dei clienti. Devo dire che l'esperienza di uscire ogni tanto anche dai tribunali per andare dai clienti e formarli, informarli e sostenerli nella loro attività e dare il famoso miglio in più alla loro attività è stata una scelta che ci ha avvicinato molto ai clienti e ci ha avvicinato molto anche alle esigenze del mercato e ci consente davvero di operare a 360 gradi per le loro esigenze. Quindi è una scelta che abbiamo fatto e di cui siamo orgogliosi e che crediamo sia una scelta vincente. Avvocato Corsi Novi, il vostro studio legale è specializzato in vari settori ma ciò che fa la differenza è l'alta expertise che assicurate ai vostri clienti. Quanto è importante questo aspetto per essere competitivi sul mercato? La professione dell'avvocato nel corso degli anni è cambiata molto, molto rapidamente e abbiamo avvertito l'esigenza da parte dei nostri clienti di avere degli avvocati che non fossero solamente dei professionisti da mettere in campo quando si prospettava il contenzioso o se c'era un tema di contrattualistica ma che fossero anche dei partner strategici. dei partner appunto nella prospettiva di avere poi una leadership anche esterna e quindi la necessità di conoscere il mercato, conoscere i processi e poter dare quindi una guida al cliente in quelle che sono scelte strategiche. Quindi non soltanto il supporto legale ma necessariamente una visione più ampia che orienta appunto la tematica di certe scelte strategiche a livello direzionale proprio. Avvocato, quali fattori strategie vi distinguono rispetto ai competitor? La scelta dello studio è stata quella di focalizzarsi su alcune aree di expertise dove si è cercato di creare quel high value, l'alto valore che il cliente richiede. Nel senso che le tematiche che i nostri clienti affrontano sono estremamente settoriali come in un ambito come quello degli appalti pubblici che nel 2022 ha visto un importo di lavori per circa 200 miliardi di euro. Quindi quando si affrontano questi settori bisogna necessariamente conoscere tutto il contesto, tutte le criticità e tutti quelli che sono gli strumenti che la normativa offre. Quindi il nostro, diciamo, trademark è stato quello di specializzarsi in questi ambiti così da poter dare questo valore ai nostri clienti. Questa sera lo studio legale associato Corsinovi manmana si è aggiudicato le fonti come boutique d'eccellenza dell'anno. Come commentate questo riconoscimento e cosa rappresenta per voi? Questo riconoscimento è un grande onore anzitutto ed è un riconoscimento al lavoro che io e il mio socio, Flavio Corsinovi, abbiamo operato in questi anni per costruire una realtà anche, diciamo, al di fuori della realtà tradizionale di Milano e di Roma all'interno di una città come Firenze che potesse, diciamo, competere in Italia anche con player più grandi dei nostri. Quindi è un riconoscimento che ci ripaga del tanto lavoro svolto e della progettualità che abbiamo messo in campo, ma per noi poi è un punto di partenza per migliorare ancora di più l'offerta ai nostri clienti e per migliorare ancora di più quella che è la nostra prontezza di risposta alle esigenze dei clienti al mercato.